La tina caccia 5 Prato Rinaldo dal punto di vista agonistico ha afferto pochi spunti, c'è stata infatti una roboante vittoria della formazione di casa per 10-1. I giocatori in campo hanno però fortemente contestato alcune decisioni da parte dei direttori di gara, Rutigliano di Bari, Chiarello di Barletta e Fratangeli di Roma. Questa è una di quelle, su 2-0 Felicino è stato probabilmente spinto, stava in vantaggio sul giocatore di casa che aveva comunque intuito le intenzioni del giocatore ospite ma probabilmente si è aiutato anche con una mano. Gli arbitri non hanno ritenuto opportuno fischiare da quell'azione è nato poi il 3-0. Manca assolutamente un giallo poi a Gimenez che interviene in maniera durissima su Leonardo colpendolo alla caviglia. Gimenez poi subisce però una sorta di regolamento di conti da parte di un giocatore ospite che interviene veramente a trinciapolo in maniera molto pericolosa. C'è il cartellino giallo, probabilmente ci poteva anche stare il provvedimento estremo del cartellino rosso. C'è stato poi un reclamo da parte dei giocatori del Latina per questo fallo che è stato commesso fuori dall'area di rigore però su Gimenez. I tre direttori di gara non hanno fischiato neanche però il fallo che c'era assolutamente. Guardate, poi c'è stato un preziosismo da parte di Gimenez che effettua questo tunnel scherzando di palma, una delle cose più belle della partita così come altrettanto bella è stata la finta da parte di Leonardo che con questo gesto tecnico, con questo virtuosismo ha mandato fuori gioco ben tre giocatori di casa. Gesto tecnico che sicuramente è rivedibile da parte di Stefano che nel tentativo di rinviare il pallone lascia lo stesso proprio in una zona molto pericolosa del campo. In quella circostanza però fortunatamente i giocatori del Latina non ne approfittano. All'inizio del secondo tempo con il risultato ancora in biligo sul 3-1 in Latina inizia la partita in maniera davvero spavalda e il Prato Rinaldo capisce subito che sarà un secondo tempo di sofferenza. Battista ha preparato molto bene la partita, un possesso di palla prolungato che è durato ben 40 secondi che ha lasciato i giocatori del Prato Rinaldo assolutamente inebetiti, storditi ed è stata sicuramente questa una delle tante chiavi del successo della formazione pontina che ha trionfato alla fine per 10-1.